Mi ho visto i passari dietro quel palazzo, non è un errore. Eravano circa 10.000 metri di quota, quando quella luce ci ha affiancato. Il nostro radio non se ne ha da alcuna presenza. Credo che sia stata un'esperienza veramente inutile. Ho visto un UFO quando stavo tornando da scuola per andare a casa con dentro un essere come questo. Da quando ho visto quell'oggetto volare in cielo, io non lo so, mi ha cambiato completamente le vite. Grazie a tutti. Grazie a tutti.